Fine dell'obbligo delle mascherine all'aperto a partire da oggi, venerdì 11 febbraio, in base all'ordinanza emanata dal Ministro della Salute Roberto Speranza, anche se bisognerà portarle con sé ed indossarle in caso di luoghi affollati. Resta comunque l'obbligo fino al 31 marzo di mettere le mascherine nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private. Dopo due anni drammatici, il ritorno alla normalità è iniziato. Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale si legge nell'ordinanza di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private. Altri segnali del ritorno alla normalità arriveranno dal mondo delle discoteche, di certo il settore tra i più penalizzati della pandemia. Questo weekend dunque si torna a ballare, ma solo in possesso del Green Pass rafforzato. Altri segnali verso l'abolizione delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria arriveranno nelle prossime settimane. Il ministro Speranza e la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali stanno lavorando per la messa in atto di un percorso graduale che prevede la riapertura a capienza massima degli impianti sportivi all'aperto e al chiuso. Per quanto riguarda il Green Pass, la certificazione verde Covid rilasciata dopo la terza dose ha un'efficacia illimitata, quindi senza necessità di nuove vaccinazioni. Il regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato a coloro che sono guariti dal Covid dopo il completamento del ciclo vaccinale primario. Il 31 marzo, lo ricordiamo, scade lo stato di emergenza sanitaria legato al Covid.